I carabinieri rintracciano 19 furbeti I carabinieri del reddito di cittadinanza c'è anche il cuoco di un ristorante del centro Giocatori d'azzardo dimenticano di chiudere la porta della bisca, scoperti e denunciati Rimpasto giunta a Biffoni, il possibile ingresso di Italia Viva crea malumori nel partito di Renzi ed anche nel PD Un furgone carico di aiuti umanitari ogni settimana da Prato all'Ucraina, appello della pastorale dei migranti Buongiorno e benvenuti al telegiornale del giorno di TV Prato In primo piano la cronaca con l'indagine dei carabinieri che ha portato alla scoperta e alla denuncia di 19 furbeti del reddito di cittadinanza Tra coloro che percepivano il sussidio senza averne diritto ci sono anche persone che lavoravano a nero Tra cui il cuoco di un ristorante del centro ed un operaio tessile Contestate nel complesso in debite percezioni per un totale di circa 60.000 euro 19 furbetti del reddito di cittadinanza sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri di Prato E adesso dovranno rispondere di truffa ai danni dello Stato per aver indebitamente percepito il sussidio senza averne titolo La maggior parte dei denunciati sono cittadini stranieri che hanno dichiarato falsamente di risiedere in Italia da almeno 10 anni Requisito minimo che la legge prevede per poter usufruire del beneficio Ma tra i denunciati ci sono anche cittadini italiani sorpresi a svolgere attività lavorativa in nero Tra questi un cuoco sorpreso a cucinare in un ristorante del centro storico Un manutentore trovato all'interno di un impianto sportivo ed un operaio impiegato nel capannone di una ditta tessile I militari della compagnia di Prato e del nucleo ispettorato carabinieri del lavoro Oltre agli accertamenti effettuati sul posto hanno incrociato i dati forniti dall'Inps e dagli uffici dell'anagrafe dell'intera provincia Tanto da far emergere nel complesso un'indebita percezione per un importo complessivo di circa 60.000 euro Altre posizioni sospette sono attualmente al vaglio dei carabinieri e potrebbero condurre alla scoperta di altri furbeti del reddito di cittadinanza Ancora cronaca stavano giocando d'azzardo in uno stabile del macrolotto zero ma si sono scordati di chiudere la porta d'ingresso La dimenticanza è costata cara ai quattro uomini di età compresa tra i 40 e i 50 anni che sono stati scoperti dalla polizia e denunciati per partecipazione al gioco d'azzardo Gli agenti delle volanti transitando per normali controlli di strada ieri notte hanno visto la porta aperta e temendo fosse in atto un furto hanno fatto accesso ai locali scoprendo la bisca Sul tavolo da gioco erano presenti tessere del Mahjong, fish e mazzi di carte da poker che sono stati sequestrati al pari dei 4.500 euro in contanti trovati nella disponibilità dei quattro giocatori d'azzardo tutti i cittadini cinesi pregiudicati Uno di essi dovrà rispondere anche di porto di oggetti atti ad offendere All'uomo è stato infatti sequestrato un coltello a serramanico Sottoposto a sequestro anche lo stabile in cui era stata allestita la bisca un immobile di proprietà di un altro cittadino cinese di 43 anni Cambiamo argomento e parliamo adesso di politica e del rimpasto e nella giunta Biffoni il possibile ingresso di Italia Viva crea malumori nello stesso partito di Renzi e determina l'ennesima divisione all'interno del PD Sentiamo Il rimpasto di giunta stabilito dal sindaco di Prato Matteo Biffoni con l'ingresso di Italia Viva in seguito alle dimissioni di Luca Vannucci sta creando malumori sia nello stesso partito di Renzi che nel PD Per quanto riguarda il primo, 16 esponenti di Italia Viva hanno scritto una nota polemizzando contro una decisione che riferiscono non è stata il risultato di una condivisione politica In particolare ad entrare nella squadra di Biffoni dovrebbe essere l'attuale vicepresidente del Consiglio Comunale Giacomo Sbolgi L'operazione politica del sindaco che ha l'obiettivo di allargare il campo al centro è giudicata ad altro canto poco opportuna anche da Stefano Nenciarini responsabile organizzazione del partito e braccio destro del segretario provinciale Marco Biagioni Il punto non è certo la nomina in sé il sindaco ha assolutamente tutte le prerogative è ovvio ma ci tengo anche a ribadirlo di decidere chi è la persona più giusta per far parte della sua giunta e per condividere con lui e con tutta la giunta tutto questo percorso soprattutto in quest'ultimo anno e mezzo in cui c'è la necessità di una compattezza Detto questo, dato anche quello che è il contesto politico che ci portiamo dietro già da qualche mese ma in generale parlo delle elezioni e anche il percorso che ha iniziato il Partito Democratico di Prato di allargamento di un discorso politico anche in ottica 2024 non soltanto con le sensibilità moderate e riformiste ma anche quelle progressiste appunto ci chiediamo se è opportuno in questo momento un'operazione politica che potrebbe andare in qualche modo a ledere questo percorso che stiamo già intraprendendo Da Prato all'Ucraina il viaggio di Anita e Slavik che ogni venerdì partono con un furgone carico di aiuti umanitari l'Ufficio per la Pastorale dei Migranti rivolge un nuovo appello alla donazione La solidarietà non si ferma da mesi da Prato dalla Parrocchia della Resurrezione ogni venerdì Ania e Slavik partono con un furgone carico di beni umanitari alla volta dell'Ucraina A coordinare il tutto è Don Gabriele Begenaru direttore della Pastorale Migranti e viceparroco della Resurrezione Fin dall'inizio della guerra in Ucraina il sacerdote si è prodigato per far avere beni di prima necessità agli sfollati in fuga dal conflitto Le richieste di aiuto sono ancora tante da qui il nuovo appello per sostenere il popolo ucraino Ogni venerdì parte un piccolo cuore da ogni uomo da qui da Prato che apre il suo cuore, la sua anima per i bisogni di quelli che sono in guerra adesso Già da un tempo mandiamo questo aiuto in Ucraina alla regione di Cernivch la provincia di Chizman con i nostri collaboratori ucraini questo è il comando generale dove si possono portare tutto quello che c'è bisogno nel tempo dell'inverno bisogno dei vestiti, bisogno dei calzini di uomo, di donna, di bambini hanno bisogno di vestiti d'inverno e in quanto non hanno gas, luce, acqua hanno bisogno di cibo in scatola Il punto di raccolta, come detto, è la parrocchia della Resurrezione ogni venerdì isla, vecchiane, accaricano il furgone e partono 24 ore di viaggio per arrivare in Ucraina una volta sul posto i prodotti vengono distribuiti alle varie realtà del territorio tempo un paio di giorni e poi i due ritornano in Italia così dà tempo per aiutare il proprio popolo La situazione è molto difficile un dolore fortissimo quando ti vedi queste bimbe quando ti vedi queste famiglie che rimaste senza niente senza luce, senza acqua calda senza riscaldamento C'è tante rufiggiate che è entrato sotto Europa che noi ora portiamo questa roba grazie a Prato, grazie a tutti che dà mano per noi che aiutiamo, qualche aiuto per gente questo ora è importante speriamo che venga pace che questo finisce tutta la storia perché noi vogliamo tutti andare a casa Questi aiuti a chi vanno? Come li distribuite voi sul territorio? C'è asile dove c'è bambine che arrivate anche da Donetsk da Kherson, da Kiev e allora noi si divide si guarda che si trovi qualche famiglia che veramente arrivate a Cernavce Kizman, Lvov arrivate senza niente portiamo anche ospedale da tutte parti è importante per avere qualcosa di portare Di là ho bisogno, ho bisogno ci sono tanti che piangono che chiedono aiuto Aperto le sue porte al pubblico la bottega, il negozio laboratorio della Fondazione Opera Santa Rita nei giorni scorsi ha fatto tappa proprio negli spazi di Via Luigi Muzzi 47 anche il Sentiero Blu un'esperienza portata avanti da anni dal Santa Rita La bottega il negozio laboratorio della Fondazione Opera Santa Rita di Via Luigi Muzzi 47 ha aperto le sue porte al pubblico si tratta di uno spazio all'interno del quale è possibile trovare e acquistare tanti oggetti realizzati con cura e passione dai ragazzi che frequentano tutte le strutture della Fondazione Opera Santa Rita dal centro tavola agli addobbi natalizi passando per i prodotti gastronomici le ceste molte idee regalo Sono tanti i prodotti che si trovano al Temporary Shop aperto fino al 24 dicembre con questi orari il lunedì dalle 16 alle 18 e dal martedì alla domenica dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 18 per la vigilia di Natale la bottega sarà aperta dalle 10 alle 12 La bottega è un luogo di incontro del Santa Rita dove tutti i ragazzi apportano qualcosa ognuno di loro ha fatto un pezzetto c'è chi ha tagliato il legno chi l'ha pitturato chi l'ha assemblato hanno fatto le candele hanno fatto l'allestimento della vetrina è l'espressione del risultato di quello che è un lungo lavoro e di preparazione aiutati dai loro educatori che con pazienza gli hanno trasmesso delle competenze E proprio al Temporary Shop nei giorni scorsi ha fatto tappa all'avventura del Sentiero Blu per un pomeriggio all'insegna della poesia e della musica Il Sentiero Blu nasce per offrire opportunità ai ragazzi con autismo alle loro famiglie ma anche ai territori in cui poi noi andiamo e giriamo proprio per far conoscere i nostri ragazzi e la loro realtà Oggi presentiamo delle poesie poesie che sono state scritte dalla mamma di uno dei nostri ragazzi Damiano La sua mamma appunto ha composto nel corso della sua vita queste poesie dedicate alla famiglia a Damiano stesso e quindi anche al tema dell'autismo e con molta gentilezza e generosità ha deciso di condividerle con noi Da qui l'idea appunto di condividerle con tutte le persone che hanno piacere e partecipano agli eventi del Sentiero Blu E adesso lo sport calcio dopo il successo in Coppa si torna a pensare al campionato in Casa Bianca Azzurra a Lungo Bisenzio arriva il Crema e il Prato vuole proseguire la striscia positiva di sette vittorie e un pari infilata da quando in panchina siede il nuovo mister Brando Il campo dà la giustizia toglie è quello che sta accadendo in queste settimane al Prato che con fatica sta cercando di raddrizzare un inizio di stagione stentato ma tutto quello che di buono riesce ad esprimere e a ottenere in campo viene poi vanificato in parte fuori dal rettangolo di gioco il lavoro straordinario che sta compiendo Lucio Brando da quando si è seduto sulla panchina bianca azzurra riassunto dai numeri 16 punti raccolti su 18 disponibili in campionato due turni superati in Coppa 7 vittorie un pari nessuna sconfitta un ruolino impressionante che però nonostante tutto non ha permesso al Prato di risalire la classifica i bianca azzurri si trovano solo un punto sopra la zona play out l'errore nei cambi con il Real Forte Querceta ha spinto il giudice sportivo a togliere i tre punti ottenuti sul campo una presunta violazione contrattuale relativa alla passata stagione ne ha sottratte altri tre anche se in questo caso si attende l'esito del ricorso che potrebbe anche restituire ciò che è stato tolto ma tornando al campo le prestazioni della squadra da un mese e mezzo non possono che lasciare sensazioni positive vittorie, gol bel gioco intensità e carattere c'è tutto questo nel Prato firmato Brando visto sin qui domani i bianca azzurri saranno impegnati col crema sperando che il turno infrasettimanale di Coppa non abbia lasciato troppe scorie nelle gambe anche per questo il tecnico mercoledì ha adottato un ampio turnover per quanto riguarda la formazione i dubbi ricadono sul centrale di difesa con il ballottaggio colombini-Channamè e il ruolo di centravanti colombi è recuperato ma non ancora 90 minuti nelle gambe Renzi viene dalla doppietta di Coppa da subentrato nell'ultime due gare di campionato però Brando si è sempre affidato all'attacco leggero inserendo Masini supportato da Mobiglio Celle e Quassi insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta e il telegiornale del giorno si conclude qui vi ricordiamo alle 17.30 in diretta dal Duomo di Prato la recita del Rosario e a seguire la Santa Messa prefestiva rimanete con noi anche con l'informazione di TV Prato che torna come sempre con il TG serale alle 20.30 grazie dell'attenzione buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti